Comunque è un modo che piace molto ai giovani per comunicare, per arrivare alle persone, per arrivare a chi magari un libro non lo leggerebbe. Quindi è un modo per riuscire a farsi ascoltare, a passare delle storie, a passare dei significati, dei valori. Quindi mi sembra uno strumento interessante e che debba essere poi anche, come voglio dire, valorizzato per il futuro. Perché di fatto la storia che ha vinto è una storia che ci dice tante cose, è una storia che è stata molto apprezzata dai ragazzi.